Sabato 9 novembre, presso l'aula consigliare di Castelnuovo-Cilento, il sindaco Gianluca d'Aiuta ha incontrato una delegazione delle guardie ambientali. Degli scopi della riunione ce ne parla lo stesso primo cittadino. Abbiamo ricevuto presso il comune una delegazione delle guardie ambientali. Ritengo che il loro apporto possa essere di fondamentale importanza per il territorio del comune di Castelnuovo-Cilento, perché per una serie di problematiche che sono ben note ai cittadini, i quali me le hanno più volte segnalate. Quindi ci sarà un controllo più efficiente, un controllo più efficace per quanto riguarda le deiezioni degli animali che purtroppo imbratta i nostri marciapiri, ma non solo quello, anche i fenomeni odiosi di abbandono, di immondizie, insomma, serviranno proprio a questo. Con le guardie ambientali stipuleremo una convenzione e loro sorveglieranno il territorio sanzionando adeguatamente chi ovviamente non osserverà quelle che sono regole giuridiche, ma anche regole di civiltà. Inoltre prosegue con successo il progetto denominato Il tuo negozio e la tua azienda è il nostro orgoglio, che si pone l'obiettivo di rilanciare il commercio locale. In pratica le attività del paese avranno la possibilità di farsi pubblicità gratuita sul sito internet del comune. Un modo per farsi conoscere anche dei tanti turisti che, soprattutto d'estate, con le loro vetture attraversano la frazione di Velina per recarsi nelle vicine località marittime. All'iniziativa hanno aderito già una quindicina di esercenti.